Allora amici di Quarta Prete, buonasera, sono qui all'interno del Teatro Chione, come vedete alle mie spalle, grandi operazioni in movimento, perché io sono qui per parlare di uno spettacolo magico, ovvero Abracadabra, la notte dei miracoli. E ne parlo con Guido Marini, buonasera Guido dei Disguido e Gigi Speciale, buonasera Gigi. Allora siamo prossimi a Natale, siamo qui al Ghione, siamo pronti, siamo in linea di partenza, anzi quasi di arrivo devo dire, perché tu sai che il 26 debutta questo spettacolo al terzo anno dopo tre sold out durante la stagione e qui al Teatro Ghione. E quest'anno facciamo sette repliche, qui al Ghione dal 26 al 29 dicembre. Anche con delle doppie serate? Con delle doppie, perché abbiamo appunto in quattro giorni facciamo sette repliche, sono la prima il 26 pomeriggio alle 17, la seconda alle 21 e poi il 27 sempre alle 17 e alle 21, il 28 alle 17 e alle 21 e il 29 solamente alle 17. Tanti ospiti, tanti ospiti, un grande contenitore. Un grande contenitore, allora comincio subito dal mio co-organizzatore, co-produttore, co-ideatore, amico soprattutto. E complice. Gigi Speciale, e complice, e se qualcosa non va chiedete i soldi a lui, mi raccomando. Gigi Speciale, un punto di riferimento per la Magia per Bambini a Roma, da sempre ormai. E con me, ovviamente Isabella, la mia dolce metà, che anche questa volta vedrete tutta ad un pezzo, o forse no. Con la sua eleganza, con la sua grande eleganza. Anche quando è divisa in due. Anche quando è divisa in due. Oddio, oddio. E poi fammi dire queste cose, perché quest'anno abbiamo delle eccellenze italiane e abbiamo due grandi dall'estero, anzi tre grandi dall'estero. Ora te le dico, la prima è Mirko Menegatti. Mirko Menegatti, campione italiano di magia. Quindi eccellenza assoluta. Eccellenza assoluta, un signore vero della magia, un maestro, come piace chiamarlo e definirlo, un amico, anche lui ovviamente, siamo un po' tutti amici. Non è vero, non è vero. No, non è vero. In questo caso sì, assolutamente sì. Perché il fine è unico per tutti quanti. Il fine giustifica i mezzi. Non so, non c'è. Ma è anche benefico, no, caro Guido? Il fine è benefico, perché alla fine di tutta questa cosa la raccolta dell'incasso e ciò che avanzerà del ricavato di questo spettacolo andrà a due importanti associazioni. Antas, che si occupa di clown terapia, per cui sono 200 operatori all'interno dei più grandi ospedali di Roma, della capitale, appunto che anche loro da 12 anni, per cui non sono nati ieri, è un'importantissima realtà. e un'ifelan, come gli altri anni, che si occupano della sindrome di felan-bacdermid, di aiutare le famiglie con questo tipo di grave patologia rara, per fortuna rara, mi tocca dire. E quindi, insomma, noi ci mettiamo il cuore. Questa è una cosa importante. Ma fammi dire ancora il cast, aiutami anche tu, Gigi. Eccoci, eccoci. Oltre Mirko Menegatti, che appunto già ne hai parlato te Guido, ci sarà direttamente alla Spagna Jaime Figueroa, che è un'esplosione, ahimè, di creatività, di magia, davvero, molto, molto simpatico, oltre ad essere veramente campione a livello magico internazionale, quindi, insomma, una figura davvero bella da avere quest'anno nella nostra edizione, assolutamente. Oltre lui ci sarà anche... Ha vinto il Mandrakdor, lo scarda la magia, che abbiamo vinto anche noi, per cui, insomma, ci tengo a dirlo, e lui è veramente... Ma sono i migliori, no? Sempre sono i migliori, sempre sono i migliori, noi li vogliamo qui ad Abracadabra. Una cosa importante, Jaime è un comico, se voi lo vedrete, vi sembrerà lì per lì, appena lo vedrete, ma chi è questo? Poi, dopodiché, vedrete le magie che fa nella sua comicità, ancora più difficile. Oltre ad essere un mago bravissimo, vi fa scompisciare da ridere, per cui è incredibile. Benny Yu Yun-Li... Sì, e questo lo conosci meglio te, perché ci ha lavorato più volte, quindi parla di te, io poi parlerò di... Benny Yu Yun-Li, da Hong Kong, io ho fatto con lui due tournee, una in Cina e una in Giappone, l'anno scorso e due anni prima. è un manipolatore eccezionale, è la prima volta che si esibisce con questo numero in Italia, ha rappresentato Hong Kong due volte ai mondiali di magia, una volta nel 2015 e una volta in Corea nel 2018. è un ragazzo eccezionale, si costruisce tutto da solo, è un genio dell'impossibile, veramente, e soprattutto riesce a creare delle cose con... cioè, lui farà apparire i fiori, ma fiori veri, fiori veri, per cui, insomma, è qualcosa di veramente unico al mondo. Si è esibito al Magic Castle di Hollywood, la più importante istituzione che c'è a Los Angeles nel campo della magia. Ok. Dai, continuiamo, però prima di continuare con gli altri personaggi del cast, volevo parlare anche di Walter Leonardi, che insieme a Guido ed Isa e a me, diciamo, insomma, sì, sì, siamo i produttori. Lui è il produttore, vero e proprio, il vero produttore, quello che paga. Lui, che viene appunto da Chiavari e fa parte della Corte dei Miracoli di Livorno, che abbraccia il nostro progetto. Appunto, dalla Corte dei Miracoli arriva un altro artista internazionale che è Alberto Giorgio e Laura, insieme a Laura. Due personaggi incredibili che fanno grandi illusioni e porteranno per la prima volta qui a Roma, ad Abracadabra, un nuovo numero di illusioni che lascerà tutti a bocca aperta. Assolutamente, una grande illusione mai vista prima. Loro due si sono esibiti, fra l'altro, con la più grande produzione mondiale di magia, che oggi è del Cirque du Soleil. Sto parlando di The Illusionist, record di incassi a Broadway, per cui, insomma, due vere eccellenze della magia mondiale. Due grandi amici anche loro, di Livorno, Corte dei Miracoli, come ha detto lui, giustamente, di Walter Leonardi. E per... chi sto dimenticando? Ancora c'è Luca Lombardo, che è un trasformista, quindi da Napoli, quindi abbracciamo tutta l'Italia. Lui sta avendo un successo incredibile, sta girando per tutta l'Italia e anche il mondo. E il suo numero è molto bello perché è naturalmente universale, perché piace agli adulti, ma ammicca anche ai bambini. Quindi è proprio adatto al nostro target, perché abbraccia le famiglie. Lui riesce a cambiare di abito in neanche un secondo, quindi è da vedere assolutamente. Insomma, uno show ricco di tanti virtuosismi, uno show internazionale per tutta la famiglia. Ci tengo a dire che anche tu porterai un'anteprima mondiale, perché porti un numero dedicato a parlare di tu. Assolutamente, io porterò un progetto che porto avanti da un annetto, cioè dai 90 anni di Topolino. Perché porterò un numero originale dedicato a Walt Disney e al Topolino più famoso di sempre, vale a dire quello di fantasia. È un numero originale appunto per bambini, ma che piacerà assolutamente anche ai grandi. Perché Topolino è per tutti e inoltre ci saranno anche delle illusioni. Quindi mi sono messo alla prova in questo progetto che davvero non vedo l'ora di metterlo in scena. Bene, allora porto un'anteprima. Isabella e io porteremo un numero sempre estratto dal cinema. Ci può dire? Sì, assolutamente sì. Faremo per la prima volta, a livello veramente grande, un numero con un pallone. Un numero con un pallone, ma di numeri con i palloni se ne sono già visti altri. Questa volta è un numero veramente originale. Per cui venite e non vi voglio anticipare altro. Ma, importantissimo, il contenitore di quest'anno a noi ci piace molto contaminare all'interno di Abracadabra. L'anno scorso era dedicato al circo, quest'anno è dedicato alla musica lirica. Allora, sull'accompagnamento del maestro Bonanno abbiamo con noi Rosaria Angotti, una star vera e propria, un soprano leggero di coloritura, eccezionale, che veramente lascia i brividi e che curerà veramente tutta la cornice. Insieme agli Asco Fuji, dal Giappone, altra grande cantante lirica soprano, cureranno la cornice di questo Abracadabra, la notte dei miracoli. Quindi bisogna venire il 26, 27, 28 e 29 al Teatro Ghioni, via delle Fornaci 37, a vedere Abracadabra, la notte dei miracoli, uno show internazionale per tutta la famiglia, caro Guido e caro Gigi, dove basterà un tocco di bacchetta per entrare nell'incantesimo. Che fai, ci fai sparire come l'altra volta o ti facciamo sparire noi? No, forse è meglio il contrario, ragazzi. Guido, buon Natale, Abracadabra, la notte dei miracoli. Mi raccomando, perché questo è uno spettacolo che aiuta veramente chi ne ha bisogno, per cui dovete venire a fare un regalo. Fate questa magia, fate questa magia. Ciao a tutti e ricordatevi che aiutare è divertente, è uno dei nostri morti. Grazie ragazzi, buon Natale. Buon Natale. Ciao Gigi. Spariamo. Spariamo. Magia.